Ma ormai è finita, fischio finale, Lecce in festa, tifosi esultanti allo stadio Bentegodi, Lecce dunque in Serie A, la squadra pugliese torna nella massima divisione dopo soltanto un anno di B, merito di un allenatore, Nedo Sonetti e di un gruppo di giocatori che ci hanno creduto fino alla fine. La sconfitta di domenica scorsa in casa contro il Pescara aveva fatto temere i pugliesi, oggi invece la promozione è arrivata, una promozione meritata. Linea Roma. Grazie. Grazie.